Ian Sager, un terzo posto importantissimo perché significa che i primi tre quarti di ieri non sono stati un caso? Esattamente, diciamo che 38 minuti ieri abbiamo giocato molto molto bene, anzi 40 e solo se tu lasciare Terry Byworth 2 minuti per prendere un po' di fuoco, lui ha fatto e questo perché noi abbiamo perso. Però sono molto fiero della nostra performance ieri, il punto è che dovevamo venire oggi e fatti vedere tutti che ieri non ero fortuna perché noi veramente siamo forti e la terza nell'Europa, anzi terza nel mondo, questo vale, è Brian Taylor, i primi tre in mondo, il basket in calzina, niente male. Com'è battere il tuo ex compagno Brian Bell? Sì sì sì, fuori campo ancora siamo amici, noi parliamo ma sul campo siamo nemici, dobbiamo combattere così e se hai visto la partita io ho dato lui una bella botte, lui mi ha dato uno indietro, ma questo in basket se io non lo conoscevo faccio lo stesso. Quindi i miei comportamenti come un competitore è lo stesso, se amici, se padre, se mamma non mi importa, quando entro nel campo entro per vincere e per fortuna oggi abbiamo fatto. La tua spalla come sta? Eh no, sta migliore, devo dire ieri ho fatto qualche agopuntura e l'ho coperta, ho trovato molto bene, ho dormito come un bambino pure, quindi tutti questi diciamo che un percentuale, mangiare bene, l'integratore, il nostro trattamento, ringrazio Angela, Laura, tutti i nostri staff. Perché ogni piccola cosa, ogni percentuale vuol dire 15-20 alla fine e questo vuol dire che possiamo vincere la partita oggi o no.